ciao a tutti i folettini e folettine bentornati in questo nuovissimo video allora sempre video inerente allo speciale 4000 iscritti l'apertura del pacco mega pacco della mia amica alessandra questi sono tutti stampini e quindi ho deciso di aprirmi in un video a parte allora vediamo i numeri questo è numero 2 ecco numero 1 per dare forma alle tue crescioni 1 ecco qui apriamo spero che la fotocamera regga perché la batteria già quasi a due tacchette o mio dio oh mamma grazie mille sono bellissimi guardate che bene che bello stampino rosa con tutte queste forme bellissime guardate grazie mille alle un bacio allora il numero 2 ce l'avevamo qui apriamo abbiamo questi carinissimi stampini quadrati semplicissimi molto con questi ghi di goli molto molto carini grazie mille alle sono stupendi saprò sicuramente come utilizzarli di 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 tre forme diverse poi allora numero 3 vediamo dov'è numero 3 per dare forma all'internazioni 3 ecco qua oh ma che bellini questi stampini semplicissimi a forma di farfalla muoio no 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 sono stupendi grazie mille alle li adoro numero 4 ecco l'avevo già visto eccolo qui oh mio dio un orsetto credo molto molto carino grazie mille è bellissimo guardate non so se se riuscite a vedere grazie grazie mille è bellissime guardate vediamo se riesco ad aprirvelo guardate abbiamo questo stampo meraviglioso orsetti blocchetti macchinine questo cavalluccio dondolo è bellissimo guardate grazie mille alle ti adoro alle grazie mille numero 6 e questo per dare forma alle tue creazioni oddio guardate abbiamo questi carinissimi stampini per fare ciondoli c'è la tour reiffel vedete guardate non so se riesce a mettere a fuoco la fotocamera poi questo tondo la gocciolina e quest'altro oh grazie la goccetta di profumo aspettate ritiro fuori questa carinissima chiavetta questo cuore un quadrifoglio un quadrifoglio bellissimo questi qui rettangolare quadrato vedete e questo fiorellino grazie mille sono stupendi Ale ci farò sicuramente qualcosa poi allora 7 vediamo dov'è ecco eccolo qui oh che carini questi carinissimi stampini sono tre stampini fatti in questo modo guardate grazie mille Ale numero 8 grazie grazie infinite non so come ringraziarti questi altri stampini tondi molto molto carini sempre di tre misure diverse vedete vediamo il no nove eccolo qua le stelline guardate oh che carine grazie mille sono stupende Ale poi allora qual'era il dieci no il nove quindi dieci tutti questi numeri sto dando i numeri pure io no non ci credo non ci credo non ci credo oh che carino sono tre stampini a dorsetto guardate fatti in questo modo piccolini sono tenerissimi aspettatevi presto qualche videocreazione grazie Ale sono stupendi poi undici poi undici questo qui guardate che bello stampino dai è fighissimo grazie oddio oddio lo stampino delle cacchine con le faccine guardate questo qui è fighissimo oh con questi stampini faremo tanti scoppiamo le creazioni il tredici le varfalline no dai sono stupende guardate grazie 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 quattordici che era quello che nello scorso video stavo prendo per sbaglio sono sono questi carinissimi stampini di diversi colori molto carini grazie Ale mi saranno molto utili e poi c'è l'ultimo questo piccolino oddio questo fiorellino carinissimo ma è stupendo e piccino guardate che dire ti ringrazio ancora tantissimo Ale ti voglio tanto tanto bene grazie a tutti voi che mi seguite sempre per questi 4.000 iscritti anzi quasi 5.000 iscritti se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale condividete i miei video mettete mi piace iscrivetevi alla mia pagina facebook for latina creation per chi volesse mandarmi un pacchetto mi lascio la mia mail giù nell'info box che è marigrazie.catalano.mail.it questo video termina qui per oggi aspettatevi tantissime novità del mio canale e a presto un bacione ciao